Insomma, la notizia bomba della settimana è questa, Alvaro Morata tornerà alla Juventus. Scopriamo allora 10 ritorni storici di calciatori al loro vecchio club, perché certi amori non finiscono. E a proposito dei ritorni, noi ci rimaniamo male quando vedete un nostro video e poi non ritornate, quindi cogliete la palla al balzo ed iscrivetevi al nostro canale, ora, se non l'avete già fatto. Ma parliamo di Alvaro Morata, con cui ovviamente cominciamo la nostra classifica. Lo sappiamo, era già scritto che Arek Milik sarebbe andato a Roma e che Giallorossi avrebbero liberato Gico, ma come vi abbiamo raccontato ieri, la situazione è entrata in stallo. Alla fine, proprio quel Suarez, così desiderato dalla Juventus, sembra aver sbloccato la situazione, visto che è pronta a unirsi all'Atletico Madrid, liberando di fatto Morata, che in men che non si dica, è salito su un aereo per Torino per svolgere le visite mediche e garantire alla Juventus di Andrea Pirlo il centroavanti che cercava. Morata potrebbe così fare ritorno alla Juventus dopo 4 anni. All'epoca segnò l'unica rete juventina nella finale di Champions del 2015 e la rete decisiva nella finale di Coppa Italia 2016 contro il Milan. Ritroverà qualche compagno di squadra rispetto al suo primo periodo in bianconero. Soprattutto Andrea Pirlo, che lo allenerà dopo averci giocato assieme per una stagione. E a proposito della Juventus di quegli anni, come non citare Carlos Tevez, che al suo Boca torna addirittura per ben due volte. Entra per la prima volta da quei cancelli a 13 anni, esordisce in prima squadra a 17 e gioca 4 stagioni vincendo un campionato, una Libertadores e un Intercontinentale. La pace ormai ha attirato l'attenzione e infatti si imbarca in una cadiera che lo vedrà vincere trofei con le maglie di Manchester United e Juventus. È 2005 quando lascia la Boca per fare il ritorno 10 anni più tardi, proprio dopo aver lasciato la Juventus. Vincerà altri due titoli argentini e poi un terzo dopo essere tornato di nuovo dopo una breve parentesi in Cina. Parliamo di ritorni, ma ci siamo dati una regola. Non si parla di ritorni immediati dopo appena una stagione. Quindi no, non aspettatevi di sentirci parlare di Buffon e Bonucci, per esempio. C'è però un altro ritorno in bianconero che i tifosi juventini ricorderanno di sicuro. Ovvero quello di Fabio Cannavaro che arriva alla Juventus al culmine della sua carriera tra il 2004 e il 2006, quando vincerà la Coppa del Mondo da capitano e il pallone d'oro. Resterà la macchia dei due scudetti revocati per lo scandalo calciopoli e così, con la retrocessione della Juventus, Cannavaro decide di provare l'avventura a Real Madrid. In Spagna resterà tre stagioni vincendo due titoli della Liga prima di fare il ritorno a Torino. Un ritorno un po' freddo però, con una tifoseria che non li perdona l'abbandono di tre anni prima e che si chiude dopo appena una stagione. E quando si parla di giocatori che tornano dopo una parentesi a Real Madrid, come non ricordare Kakà? Le sue sei stagioni al Minnan dal 2003 al 2009 sono una favola, coronata dalla Champions League vinta e dal pallone d'oro. Anche perché Kakà segna gol pesanti sulla via della finale, è capocannoniere del torneo e nella finale di Atene si guadagna la punizione dell'1-0 prima di servire l'assist del 2-0. Stellare, fin troppo, tanto che anche per lui arriva la chiamata dei Galacticos. Quattro stagioni che però sono estremamente deludenti, tanto che l'abbiamo incluso tra i flop del Real Madrid. Nel 2013 torna rosso-nero per una stagione, niente trofei, però riesce a segnare 9 gol in una stagione opaca per il Milan. Alle volte i ritorni sono brevissimi ma intensi, è il caso di Thierry Henry e del suo ritorno all'Arsenal. Dopo appena 6 mesi alla Juventus, il campione del mondo approda all'Arsenal. È in 1999, se ne andrà nel 2007, vincendo due volte la Premier League e risultando in ben 4 stagioni il capocannoniere del campionato inglese. Insomma, i suoi 8 anni a Londra sono fatti della stessa materia di cui sono fatte le leggende. Lascerà per unirsi al Barcellona, con cui vince anche una Champions League, per poi andare a svernare nel campionato statunitense. Eppure, nell'inverno 2012, per evitare cali di condizione fisica, decide di tornare in prestito per soli due mesi all'Arsenal. E nonostante un minutaggio risicatissimo, 94 minuti in campionato e una settantina nelle altre competizioni riesce ad andare a segno per ben 3 volte. 13 anni. Ma che sapore può avere un ritorno dopo 13 anni? Ci sono forse due persone a cui si può fare questa domanda. Uno è Vincent Kompany, che la scorsa estate, scaduto il suo contratto con il Manchester City, è tornato in veste di giocatore allenatore all'Underlecht, che lo aveva lanciato tra il 2003 e il 2006. L'altro è Wayne Rooney, che debuta in Premier League a soli 16 anni con la maglia dell'Everton, e che si trasferisce al Manchester United prima di compiere nel 19. A Manchester rimarrà appunto per 13 stagioni, diventando anche il migliore realizzatore nella storia del Red Devils. Nel 2017 però si trova ormai fuori dai giochi, e viene così ceduto all'Everton. Giocherà una sola stagione, segnando 10 gol in 33 partite, prima di provare l'avventura americana a Washington DC. Alla numero 4 torniamo in Italia. Stavamo parlando di giocatori che tornano al club che li aveva lanciati, e allora dobbiamo parlare anche di Paolo Di Cagno. E se per Rooney e company gli anni che passano sono 13, per Paolo Di Cagno sono addirittura 14. Cresciuto nelle giovanili bianco-celesti, passa un anno in prestito alla Ternana, prima di vestire la maglia della prima squadra, tra il 1988 e il 1990. Segnando peraltro una rete nel derby che lo farà entrare nel cuore dei tifosi. Il giro da lì in poi è lunghissimo, Juve, Milan, Napoli, poi il Celtic, e infine la Premier League, soprattutto con la maglia del West Ham. È 2004 quando Di Cagno torna alla Lazio. Ha ormai 36 anni, gioca due stagioni che verranno ricordate per qualche controversia, ma anche per un altro gol segnato sotto la curva della Roma in un derby. Ed eccoci al podio, che abbiamo deciso di iniziare con Hernan Crespo, che ha prode in Europa dal River proprio grazie al Parma. I crociati lo acquistano nel 1996, e lui è protagonista di quattro stagioni da sogno, che vedono il Parma trionfare in Coppa UEFA. Nel 2000 la Lazio mette sul tavolo una cifra da record, per raggiudicarselo 110 miliardi di lire, ovvero 55 milioni di euro. Un record mondiale, che verrà abbattuto pochi giorni dopo dal passaggio di Figo a Real Madrid. Ma un record italiano che resterà intatto per 16 anni, fino al passaggio di Kiguain alla Juventus. Crespo tornerà al Parma 10 anni dopo per aiutare la squadra a rimanere in Serie A, e chiudere poi la sua carriera dopo aver vestito le maglie di Inter, Chelsea, Milan e Genoa. Al secondo posto abbiamo Paul Pogba, il Manchester United lo preleva dalla Francia quando lui ha solo 16 anni per volere di Alex Ferguson, che lo fa esordire in prima squadra a 18 anni. Già nelle sue prime apparizioni mostra tutto il suo talento e sembra pronto a diventare un titolare, ma Paul Scholes, che si era ritirato l'anno prima, decide di tornare e togliere il posto in squadra alla francese. Pogba entra così in rotta con Alex Ferguson e si svincola a fine stagione a parametro zero. E poi la Juventus di Antonio Conte a precipitarsi su di lui. Quattro le sue stagioni in bianco-nero, prima di essere riacquistato dal Manchester United, che come sappiamo ha pagato caro il fatto di averlo lasciato partire, visto che ha dovuto battere il record di spesa di allora, spendendo ben 105 milioni per riportarlo indietro. E chissà che il futuro Pogba non possa fare il salto all'indietro di nuovo e tornare a vestire i colori bianco-neri. Non potevamo chiudere in nessun altro modo. Alla nostra numero uno c'è Zlatan Ibrahimovic, che ha girato mezzo mondo e mezza Italia nel corso della sua carriera. Ma in qualche modo i colori rossoneri gli sono rimasti nel cuore, dopo averli vestiti in due stagioni tra il 2010 e il 2012, anni in cui vinse un campionato e un titolo di capocannoniere. A 38 anni, dopo un infortunio e un'esperienza in MLS, la sua carriera sembrava ormai prossima al tramonto, e invece is back, come ha potuto annunciare il Milan il 2 gennaio di quest'anno. A 8 anni di distanza, Ibra torna a vestire i colori rossoneri e, nonostante l'età, è subito determinante. Trascina il Milan in un finale di campionato sorprendente, visto anche come era iniziata la stagione, e dopo molti dubbi decise di attivare l'opzione per un secondo anno di contratto. E quest'anno ha già due gol in tasca dopo la prima partita di campionato. Questi erano 10 ritorni storici di giocatori al loro vecchio club. Fateci sapere se ve ne vengono in mente altri nei commenti e non scordatevi di mettere un like a questo video ed iscrivervi al canale. Questo era il vostro Davide, che ora vi augura una buona giornata.